Se c'è una grande verità che conosco è che internet è composto da bastardi, internet è pieno di bastardi. E se c'è una seconda cosa che io conosco è che questi bastardi sono incredibilmente competenti, tanto competenti da essere uno dei migliori eserciti al mondo nel cercare le persone. E dobbiamo parlarne oggi in virtù di una serie, una miniserie di Netflix che si chiama Baby Reindeer, la piccola renna, e di una stalker che dovrebbe chiamarsi Marta, o anzi dovrebbe non chiamarsi Marta. E perché ne dobbiamo parlare? Perché la stalker è diventata la vittima. Questa volta però non di una persona, di un intero esercito di internet. Io sono Matteo Flora, mi occupo di queste cose per lavoro, e questo beh, questo è Ciao Internet. Ciao Internet, il protagonista di questa storia si chiama Scott Richard Gadd. E tra parentesi si chiama così l'attore e si chiama così la vittima. Già perché lo sceneggiato in qualche puntata di Netflix, racconta la storia autobiografica di Scott Richard Gadd, che lavora in un pub e fa il comico, lo stand-up comedian, e viene stalkerizzato da Marta. Marta è un'avvocata che è dipinta come una ragazza grassoccia e estremamente, estremamente attaccata, che gli regala una serie di cose da cui il nome poi, però non vi voglio spoilerare un bel po' di roba, diventa la sua stalker. diventa non la sua presunta stalker, diventa la vera sua stalker, tanto che finisce con un restrain order, una condanna di lei, eccetera. Si risolve anche la situazione, cioè questo lo dice proprio l'autore, che la situazione in teoria si è anche risolta, eccetera, eccetera, ma in tutto questo viene raccontato il punto di vista soggettiva di Scott, come per altro altro non potrebbe essere, che racconta come si è sentito e racconta intorno, in questo comedy horror, racconta tutto il mondo che c'è dietro la vittima di stalking. E lo fa, tra parentesi, in un ordine invertito. Normalmente siamo abituati a pensare, a torto tra l'altro, che lo stalker debba essere un uomo su una donna, a torto perché comunque le statistiche parlano comunque di una diffusione tra ambe e due i generi, e beh, e niente, tutto questo è raccontato. Non solo, c'è un dettaglio particolare, durante tutte le interviste, eccetera, Scott racconta di come Martha sia stata completamente raccontata in maniera diversa, sia stata cambiata per proteggere gli innocenti, che addirittura in un'intervista dice che probabilmente la vera Martha nemmeno si riconoscerebbe all'interno di quella persona. Tutto bene, è una storia, è sensibilizzata su un tema assolutamente caldo, tutto bene. Perché ne stiamo parlando oggi? Perché la vera Martha è stata trovata. È stata trovata perché? Perché, ovviamente, se è stata condannata, se lui è una persona vera, facendo un po' di osint fatta bene, i fan sono arrivati alla vera Martha. Fino a qualche ora fa vi avrei dovuto dire, fino a quella che viene ritenuta la nuova, la vera Martha, ma in realtà, siccome la stessa Martha ha rilasciato, non si chiama Martha, e non dirò il nome, tra l'altro, della persona nel video, quindi andatevelo a cercare voi, se volete siete a un passo da Google, però non mi sembra giusto, dicevo, la vera Martha ha fatto una intervista al Sun dicendo di essere lei e che, ma ci arriviamo. Ora, come l'hanno trovata? In modo assolutamente meraviglioso. Abbiamo già fatto un video per raccontarvi come, ad esempio, era stata ritrovata la bandiera eretta da Shia LaBeouf contro Trump, eccetera, ma in realtà alcune cose che vengono raccontate all'interno della serie, dei tweet particolari, delle mail, delle circostanze, si ripercuotono nella realtà. Alcuni tweet sono esattamente identici, tra parentesi, e la gente li ha trovati, in tempi non sospetti, no? Infatti ieri per cui poteva essere un mitomane che si fingeva tizia o caia. E cosa hanno fatto? Beh, hanno iniziato ovviamente a fare quello che fanno alcuni tanti sulla rete. Vi ricordate che dove ho detto che è piena di bastardi, ha iniziato a minacciare lei, minacce di morte, eccetera, ma anche a minacciare tutta la sua rete sociale, tutti i suoi amici conoscenti, eccetera, tanto che è proprio per porre fine alle vessazioni nei confronti dei suoi amici che lei pare muoversi. E buffo. Buffo perché? Perché è la prima cosa, devo dire la verità, che io mi sarei aspettato. L'idea stessa che sarebbe stato possibile raccontare dei fatti autobiografici lasciando fuori la carnefice mi sembrava abbastanza assurdo e in realtà avrei avuto ragione nel fare un minimo di analisi del rischio, talmente assurdo che assolutamente non è stato possibile farlo. Di che cosa se la prende adesso l'avvocato? Se la prende ovviamente perché è stata raccontata la storia ma c'è poco da fare, c'è stata una denuncia, eccetera, lei non è rappresentata. Se la prende perché è stata fatta, perché l'attrice che la interpreta è decisamente sul lato della pinguità e lei dice che lei invece era magra e comunque poi lei era una bellissima donna, lui era mediocre, mettiamola così, buffo. Buffo perché? Perché ha tanto di cui lamentarsi, paradossalmente anche se venisse raccontata in maniera molto diversa, magari in denigratoria ed è assolutamente possibile che il racconto che viene fatto da Scott non sia aderente alla realtà. Attenzione, non tanto per proteggere lei, non sia aderente alla realtà perché è un racconto soggettivo, non credo che si basi semplicemente su quelle che sono le carte di una ricostruzione, sugli atti d'accusa, sugli atti del procedimento, ma perché? Perché racconta il disagio e alcune cose nella testa di Scott sono sicuramente viste sotto la luce del perseguitato maggiore di quelle che sono successe. Questo non significa che sta inventandosi cose, questo significa che la percezione che lui ha, l'impatto che ha avuto su di lui probabilmente enfatizzano alcuni comportamenti che di per sé, presi singolarmente, potrebbero anche non sembrare un fenomeno di stalking. E anche lì ci sono un paio di punti da prendere in considerazione. Uno dei due è che tanti comportamenti che non rappresentano singolarmente stalking fatti con un'unica persona diventano stalking. L'attenzione continua, reiterata, morbosa rispetto a una persona, il numero di tentativi di contatto o contatti o movimenti verso quella persona, tentativi di approccio, tentativi di aprire conversazioni, di essere all'interno della vita di quella persona, sono nella loro completezza un atteggiamento di stalking, anche se la singola azione che noi facciamo, probabilmente presa come tale, a nessuno verrebbe in mente di vederla come stalking. Se io incontro qualcuno, più o meno mi trovo bene e gli dico, vabbè, potremmo andare a bere qualcosa insieme una volta, rimane così. Se glielo faccio due volte al giorno, tutti i giorni, la stessa azione diventa un fenomeno di stalking. Però ci sta che molte delle cose che hanno raccontato, molti dei modi con cui hanno ricostruito questa Marta, siano ricostruzioni che da un certo punto di vista sono diffamatorie verso la vera Marta, che, con tutta la buona volontà, puoi anche dire che, no, ma non era lei, era un personaggio, ma avendo raccontato che tutto questo è autobiografico, diventano precisamente inquadrabili su di lei. E me la vedo interessante la costruzione a un certo punto di una eventuale accusa e difesa. ciao Cagnone, ciao Cagnone, ciao Cagnone, come stai? Ciao, ciao, ciao. E all'interno di questa costruzione, la cosa che io volevo raccontarvi è come incredibilmente nessuno nella produzione abbia pensato che un evento pubblico, un fatto pubblico, potesse essere ricostruito dal pubblico di riferimento. Secondo me è tecnicamente impossibile che non lo abbiano capito. Questo significa che hanno accettato il rischio. Questo significa però accettare il rischio che una cosa del genere succeda, tecnicamente il fatto che era una sorta di punizione, una spedizione punitiva contro la carnefice. stiamo vedendo un errore fatto nel modo opposto, muoversi da vittime a carnefici. È possibile. È possibile anche che lo fosse a livello inconscio. Dal punto di vista mio penso che sia assolutamente impossibile pensare che nessuno l'avrebbe trovata e assolutamente impossibile pensare, soprattutto in una produzione di Netflix che la rete, le dinamiche di rete le conosce bene, che non si arrivasse a questo punto. Ovvio poi ci sarebbe da dire volumi di cose rispetto a le persone che, i telespettatori mi veniva, gli spettatori della trasmissione, che è una trasmissione, è una serie sulla sensibilizzazione alle dinamiche di stalking, che racconta come le dinamiche di stalking siano errate, come si sente la persona, come questa cosa sia danneggiante, come questa cosa sia impressionantemente pesante per la vittima e trovarsi a dover, a fare la stessa cosa e dover tirare le persone, ma allora non avete capito veramente, ma veramente, un tubo di niente. che credo che sia anche questa, forse la terza costante della rete e di internet, dove ogni azione che tu fai ha un impatto bifronte, della stessa dimensione. La possibilità di incontrare e trovare milioni di persone che si muovono nella direzione corretta che tu indichi o che vuoi indicare o che vuoi anche solo raccontare, portando dei benefici immensi all'umanità è un'altra metà, che l'unica cosa che cerca è la regola 42 o il personal army. Ed è una cosa che negli ultimi tempi mi intristisce, devo dire, il vero tantissimo. Almeno, intristisce a me. Era l'unica cosa che volevo dirvi su Baby Rain Deer, a me è piaciuto, è interessante, non aspettatevi la roba della vita, però a me è piaciuto come bella serie, non ne capisco un cavolo di serie, quindi prendete il mio giudizio cum grano salis, con un minimo di dubbio nei miei confronti quando devo fare il commentatore di serie televisive, e per il resto niente. Io sono in Thailandia, questo è il mio patio, pieno di cani randaggi bellissimi che vengono qui, sono trattati benissimo, vengono qua a prendere due carezze, eccetera. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se magari io ho una visione dell'internet troppo funerea, sarei veramente felice di sbagliarmi in questo caso. Per il resto, se vi iscrivete al canale e mi fate una cortesia, dobbiamo arrivare a 100.000 iscritti, dai che ce la facciamo. In fondo trovate dietro all'ultima slide il QR code per andare nel gruppo WhatsApp e nel gruppo Telegram e seguirmi anche per altre cose che faccio, per il resto grazie mille per avermi ascoltato. E state parati. Grazie a tutti.